Bisogna giocare meglio, Giulietta. Proprio qua basta un errorino. No, è Sampo un altro che è buildato bene e fa i buchi. Vi faccio rivedere la combo. Sono soddisfazioni. Allora. Tu blasta sempre. Questa la teniamo per dopo. Per quando arrivano le mani. Tu ovviamente ti carichi. Adesso aspettiamo le mani. E poi gli facciamo rocchi d'occhi. Ma le più forti. Ecco, su questo adesso mi posso sbilanciare. Clara, serva il pela Natasha. Dipende chi c'è davanti. Black Panther però come team a leggerlo così è forte. Sono tutti abbastanza universali. Carichi, vero? Sei bravissima. Però la usiamo dopo. Ma chi se ne frega la teniamo per dopo. Ti sei ripreso dal break? Bene. In fila le prendi. Uh che sei? Bah bomba. Usate prima pela quando dovete scegliere le ulti perché pela bassa death. Ce l'hai il buff? Non ce l'hai. Io credo che Natasha tenga. Credo che Natasha tenga. Ho fiducia nella Natashona nazionale. Ah no, ok. Non avevo ancora fatto la carica. Allora ho fatto bene. Non ho ancora raggiunto l'uocia. Ho appena iniziato il nuovo mondo. Cioè sono atterrata. E poi ieri sera ho spento. Non ho rimosso buff. No dai, Natasha tiene. Natasha tieni. Che rischio qua. Mamma mia Natasha! Natasha sei un bue! Natasha sei un bue! Pela debuffa con l'ulti la difesa. Abbasso la difesa dei nemici. Mentre con l'abilità ha percentuale di togliere un buff. Fortissimo. Qui non abbiamo preso dei critici ragazzi. Perché siamo indietrissimo con i danni. Eppure non ho sbagliato a giocare. Very strange. Sì. Qui è stato un problema di critico. S'ho giocato meglio di prima ma siamo pari. Costellata a Bassanker e scrive. Sbroccata. Sì. Simpair. Ok. per il momento li ho provati tutti ho provato anche ting yoon che è esattamente come me l'aspettavo buffer universale molto interessante il fatto che tolga anche che dia anche energia sampo è molto simpatico ma ce la rischiamo ecco appunto ce la facciamo mica ragazzi mi sa davvero lì tweak ma baby pela perché non lo fa più io l'avrei accettato marcia è molto carina ragazzi è molto forte e in determinate situazioni ti carri a molto dovevi avere la ultima il titolo mattina l'ho fatta proprio al pelo eh capisco perché l'hanno rimossa era un po sbrochina come cosa belt scusami ce l'ho fatta ce l'ho fatta sono 12 ce l'ho fatta all'ultimo let's go proprio sapete cosa vuol dire vincere al photo finish guardate le mie bellissime beh lui effettivamente è bellino dai c'ha l'uomo nudo le tracce sono 3 3 3 2 come relic ho livellato quelle un minimo decenti fermo restando che livellare le relic mi fa cringiare ho livellato le reliche a livello basso ovviamente ho livellato guardate che meraviglia sulle mani bella tre stelle ecco gli ho livellato questa perché c'ha crit rate ne valeva la pena le scarpe con speed anche sarebbero carine ma non ho materiali in mio velta wind damage boost e qui hp schifo cose poi serval ha le ho messo quello in attacco perché volevo che in questo piano avesse più attacco di velta per prendere il bonus e pezzo di test hp qui attacco qui crit rate ma le substats sono genshiniane piedini con tanti hp perché a serval servono gli hp è un bellissimo pezzo in difesa e un altro bellissimo pezzo in difesa poi pela pela e quella buildata meglio il che tutto dire allora il pezzo di testa è carino perché a crit rate e tanta difesa che ci piace e le mani sono queste il mantello è questo i piedi sono questi ho livellato quanto un damage boost perché la mia pela fa tantissimi danni quantum e quindi ne valeva la pena e qui le ho messo attacco capite cosa vuol dire che non queste non sono build ecco le ho dato fermata come come the light cone perché aveva le stat più alte di quella di prima è abbastanza carina poi va in combo con serval perché serval mette shock e ne valeva la pela ecco scherzi a parte ragazzi non sto livellando le relic perché io inizierò a livellarle seriamente quando saranno a 5 stelle a 4 stelle non mi va infatti devo avanzare con il l'adventure level per poter arrivare finalmente al 40 natasha è carina lei ha hp attacco outgoing healing boost questa l'ho livellata questa è la più forte che ho sui piedi hp forte qui ho attacco crit rate break effect e qui ho attacco fortissimo e proviamo e proviamo ok perfetto e qui c'è il potenziamento sul weakness break facciamo così e così vediamo casaro le pool sono tante a me adesso più che le pool mancano le risorse che è una sensazione che l'ultima volta ho sentito su arkknights tante pool poche risorse fa un po piangere allora a parte che natasha mi è piaciuta direi che la tiriamo anche se prima ci ha seccato ci ha seccato a piena vita su shang questa cosa non mi è piaciuta molto guarda calmati con questo team mi trovo molto meglio devo abituarmi a zila ragazzi anche se si la sono praticamente certa che sia quel tipo di personaggio che una volta che avrò artefatti di un certo modo risorse sarà la bomba delle bombe avrei potuto breakare il simpaticone quanti danni che spara shushu anche questo signore a me a per la cronaca non ho ancora sbloccato il come facciamo il talento di natasha che le fa togliere i debuff quel talento è molto forte io non so se battendo il boss batto automaticamente anche gli altri non ne ho idea sicuramente faccio questo adesso butto giù il capo tutti giù allora ho sbagliato qualche mossa dai schifoso ma caricate ma cosa state facendo morti tutti ma non è vero morti ma mi dite le balle mi dite le balle mi avevate detto che erano morti tutti adesso quello proprio non è vero che sono morti tutti allora non ho giocato male c'è bisogno di una cura così a occhio ah ok si in tre avete detto di si bravi ha vinto il si riunione di condominio avete vinto ma quanti danni fa questa shushu te devi calmare capite perché mi viene da dissare quel povero innocente del quella povera creatura innocente chiamata trailblazer fisico perché con shushu io io non capisco più te ti devi calmare calmati questo è il nemico che mi sta più sulle balle di tutto il gioco la riunione è andata che tanta maleducazione tanto casino dovevamo fare un voto che non si è fatto io ringrazio romi gamer per l'abbonamento prime e anche eraclion per i cinque mesi di prime ragazzi siete i best non quanto shushu no scherzo siete al pari di shushu nel mio cuore natasha stanno tutti sotto un treno ti odio eccooo si parte con le boiate che sberle che sto a piglia non sei più in counter bene grazie no io lo odio sto qua ed è per questo che vi prenderete tutti questo natasha immediatamente subito adesso per favore ma che danni fa su shang no vabbè ragazzi ma sta male sta qua oh mio dio su shang quanti danni che fa lei al nostra eroina e paura non ha su shang è incredibile lei è il suo uccellone se ti prendono di traverso ti fanno morire e ti ficano nel cannone su shang l'eroina di tutti su shang la violenza fatta persona lei non perdona e i poveri salverà e ce ne manca uno solo che adesso morirà è stato veramente facile è stato davvero incredibile io ho perso tipo due giorni su quello prima questo l'abbiamo fatto adesso a caso così con gente buildata a caso con tre scappati di casa come si builda su shang ti faccio vedere neco come si builda su shang tutorial 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 allora come relics dovete fare una missione del gioco che non mi ricordo il nome mai nella vita e darle questo set qua che è quello che le aumenta il danno fisico e poi le aumenta l'attacco livellate magari giusto la relic con crit rate e crit damage si si compra mi pare l'ho preso gratuitamente comunque non l'ho farmato